Ciao a tutti e bentornati da Karin in un nuovo video dedicato alla Poppy Playtime, ormai capitolo 4, l'ultima volta avevamo visto che Mr. Delight aveva aggredito Chicken Chicken che era riuscito a entrare in questa zona dove noi stavamo attivando tutti i computer. Oggi andremo avanti e scopriremo che cosa succederà, perché ancora non lo sappiamo, quindi state con me fino alla fine perché ci saranno dopo anche un sacco di reaction su storie di Katnep e i nostri amici nella Poppy Playtime. Ed eccolo, è questo il momento, noi eravamo rimasti esattamente qui. Aiuto! A quanto pare il Chicken Chicken! È stato sì, aggredito, ma subito dopo ha reagito e ha spiaccicato il povero Mr. Delight, spero che stia bene, ma in realtà non lo so. E c'ha anche catturati dopo averci tirato addosso qualcosa, dove siamo? Dobbiamo spaccare il vetro, ce l'abbiamo fatta, siamo fuori. Secondo me stava provando a tritarci. Cos'è quella, una trituratrice? Che caspiterina è mai quello? Non ne ho la più palida idea. Forse è acqua? Oh mio Dio, Poppy è salva, meno male ce l'abbiamo fatta a tirarla fuori da lì dentro. Ma adesso dove dobbiamo andare? Dobbiamo scoprire, ha detto, se Mr. Delight è ancora vivo. Ecco, è proprio quello che avrei fatto io. Forse Poppy dice che abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti. Perché forse da soli contro Sheikin Sheikin non ce la possiamo fare, visto che Mr. Delight era il nostro aiutante, ma... È stato fatto fuori? È stato messo KO. È stato catturato. Non lo sappiamo, dobbiamo ancora scoprirlo. Potrebbe essere ancora vivo. Questa stanza, tra l'altro, è bellissima. Sembra una specie di stanza degli esperimenti, simile un po' alla stanza dove si creano i giocattoli nella Poppy Playtime. Dove c'è Make a Toy. Crea un giocattolo, vero? O forse addirittura è quella. O comunque è una stanza molto simile a quella. Abbiamo preso una scatola. Ok, la dovevamo mettere su quel mega pulsante per aprire il cancello. Ma sembra che ci siano addirittura due cancelli. E allora dobbiamo mettere un'altra scatola anche su quest'altro bel pulsantone, mi sa. Eccola, l'abbiamo trovata, meno male. Ci sono due cancelli, doppio cancello. Adesso possiamo passare, meno male. Ok, andiamo a vedere dove siamo. C'è un sacco di spazzature in giro, giocattoli, scatole. È un po' il disastro, eh, qui. Sembra una zona super abbandonata. Da tantissimo tempo, tra l'altro. Siamo alla ricerca di Mr. Delight e... Sento la sua voce! Lasciami stare, lasciami stare! È la trituratrice! È la stessa trituratrice dove è stata fatta fuori. Mommy Long Legs! Li abbiamo tirato... Con la cornistola... La bombetta verde negli occhi e abbiamo portato via Mr. Delight. Forse ce l'abbiamo fatta a salvarlo per un pelo, perché stava per essere triturato. Ma ora c'è bisogno che qualcuno salvi noi, perché Chicken Chicken è proprio le nostre calcagna. Oddio, è vicinissimo! Guardate quegli occhi pazzi! Io ho paura di lui! Ce la faremo a scappare? Sì, forse! Questi corridoi e questi tunnel sono gigantescamente lunghi! Non finiscono mai! Mr. Delight, dove sei? Vieni ce l'ho da aiutare! Ok, sembra che abbiamo un po' distanziato. Siamo forse riusciti a... No, è ancora vicinissimo! Scherzavo! Oddio! È l'uscita! C'è l'uscita! C'è l'uscita! C'è l'uscita! Forse ce l'abbiamo fatta! Dove siamo? Ok! Mi sa che questa volta abbiamo fatto fuori Chicken Chicken! Tra l'altro guardate, guardate chi è arrivata! Quella è la mano di Prototipo, eh! Se Prototipo è arrivato a prendere Chicken Chicken, vuol dire che l'abbiamo fatto definitivamente fuori! Ma adesso dobbiamo guardarci qualche nuova storia degli Smiling Critters, Catnap e tutti i nostri amici della Poppy Playtime! C'è un piccolo Catnepino! Che è stato appena rapito da Hoppy e Chicken Chicken! Oh, qualcuno mi ha rubato il bambino! Sì! Qualcuno l'ha fatto! Oh mio Dio, forse il piccolo Catnep ha un fan club! Tutti vogliono essere suoi amici! Addirittura hanno cartelli con scritto Ti amo, Catnep! Lasciami! Lasciami! Vuole rimanere con loro! Mi sa che ha apprezzato il suo fan club e vuole rimanere insieme ai suoi fan! Tutti i piccoli Smiling Critters hanno massacrato Catnep! E adesso è diventato un involtino! Che cosa sta facendo Bubafant? Una nuova pozione magica! Elefante più pozione super elefantone! Vuole diventare muscoloso! Allora, siccome lui è molto intelligente ma non ha mai tempo per allenarsi Forse vuole diventare gigantesco e risparmiare il tempo degli allenamenti Però potrebbe anche morire usando questa pozione da quello che ho capito Quindi la sta prima provando su qualcun altro Mini Monster! Mini Mostro! Mi sa che non ha funzionato come sarebbe dovuto funzionare! Cioè, doveva diventare muscoloso! Mica cattivo! Oh oh! Mi sa che sta pozione era fatta molto male! Perché sono diventati tutti cattivissimi! Dov'è la mia pozione? Eh, l'hai lanciata per sbaglio Bubafant! E adesso tutti gli Smiling Critters sono... Affamati e cattivi! È rimasto solo l'osso! Ragazzi, avete visto Crafty Korn? Aspettate! Che cosa è appena successo? Se lo sono mangiato! Perché mi guardate così ragazzi? Si stanno addirittura mangiando tra di loro! Sono diventati come dei piranha! Sono tornati normali! Adesso morirete! Ma erano tornati normali! Vabbè, almeno abbiamo capito che quella pozione non ha un effetto eterno! Ma ora che cosa sta succedendo? Anche Crafty Korn e Dog Day sembrano molto affamati! Affamati di player! Ha avuto un'idea! Ha preso le batterie! Non sembra funzionare come tattica! Sono troppo forti! C'è una presa elettrica per l'energia! Forse? Bravo! Player ha capito cosa fare! Se fai esplodere tutte le batterie, fai esplodere anche questi mostri! Ma adesso sono entrambi rotti a metà! Non mi dire che... Ago e filo! Ho capito! Dog Day vuole unirsi a Crafty Korn! Diventare un tutt'uno! Unire i loro corpi distrutti in un unico grosso corpo! Vediamo! Beh, direi che è abbastanza spaventoso! Nessuno ti può aiutare adesso! Povero player! Ma ha un'altra batteria! Ti prego, dai! Calmati! Non volevamo davvero farti del male! È stato rapito da prototipo! Ma come? Questa è un'altra scena! Forse è il giorno prima! Ciao! Come state? Che cosa sta succedendo? Qui state per prendere tutti i fuoco! Ecco che cosa sta succedendo! Aspettate, non mi dite che... Anche Crafty Korn e Catnap si sono uniti? Mi sa che ogni giorno ne succede una nuova qua! Vorrei però sapere adesso che player è stato catturato da prototipo! Che fine ha fatto? Forse nel prossimo episodio lo scopriremo! Non lo so! Ciao ragazzi! Ho preso la batteria! Addio! Perdenti! Che cos'è? Hanno sfondato la parete! Aiuto! No! L'hanno addormentato! Dov'è la batteria? L'ha presa Catnap! Mi sa che vogliono usarla per separarsi di nuovo e diventare un Catnap e un Crafty Korn! Vediamo se ce la fanno! Penso che ce l'abbiamo fatta ha detto Catnap! E invece no! Anzi forse è peggio di prima! Si è mangiato player! E e e e... Quindi Catnap è il culetto che l'ha ributtato fuori! Non lo so! Ma è il momento di passare a un'altra storia di Catnap! E questa volta sembra che... Un raggio laser gigantesco l'abbia perforato! Non mi dite che... Catnap è morto! Non ti preoccupare per me! Occupati degli Smiling Critters! Addio! Si è decomposto! Come Thanos! È diventato polvere! Non potevo credere che se ne fosse andato! No dai! Non ci posso credere! Com'è morto Catnap? Ok! Qualche giorno prima credo! O forse la mattina stessa! Ce la fai a trovare papà? Oh che carino! Il piccolo baby Catnap! L'ha trovato! Buon lavoro piccolo! Guardate quanto è carino e felice! Io non voglio pensare che Catnap sia davvero stato fatto fuori! Ma dove corre il piccolo? Si è messo a correre velocissimo! Ma dove è andato? Oh oh! È tornato il CEO Robot! Mi sa che... Ha scaricato la sua coscienza dentro un robot! Perché l'hanno fatto definitivamente fuori a livello corporeo! Con tutte le volte che l'hanno picchiato! Mi sa che lui ha scaricato la sua memoria dentro un giga robot potentissimo! O forse lo controlla da remoto! Cioè da lontano! Non ne ho la più palida idea! Ma è già due o tre volte che vediamo il CEO dentro il robot! Qualcosa vorrà dire! Scappa! Vai! Porta via il bambino! Salvatevi! Almeno voi! No! Ho capito! Quindi il mega robot ha un super raggio laser? E' stato il CEO a farlo fuori quindi! Tesoro! Ha detto la povera moglie di Katnep! Ma anche il piccolino sembra piangere! Non è per niente felice della scena! Sta andando dal suo papà ma... Smetti di attaccare la mia famiglia! Ok! E' pronto a far fuori anche lei e il bambino! Non gli interessa assolutamente ma... Katnep si è messo davanti per salvarli! Ecco come è stato fatto fuori! Vabbè! E' sempre colpa del CEO ragazzi! Scrivete nei commenti! Abbasso il CEO! Non lo vogliamo più! Maledetto! E comunque lasciate mi piace! Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto! E spammate nei commenti qualche cuore viola! Per il povero Katnep! Ci sono tutti al suo funerale! Anche i vecchi personaggi! Il Bubabubafant sta leggendo! Le ultime parole per Katnep! Mi dispiace così tanto! Ha detto Katnep Lady! Dove stanno andando tutti? Ho qualcosa da dire! Tu sei triste ma è colpa tua se Katnep è morto le hanno detto! Questa è pura cattiveria! Lui ha protetto te e il bambino stava con voi ma adesso chi proteggerà tutti noi altri? Non c'è nessuno che ci può salvare tranne Katnep! Quindi è colpa tua! Ma è tristissima questa cosa! Cioè oltretutto che è morto per salvarla la trattano anche male! Ma sono veramente cattivi! Come sempre c'è Hoppy che è buonissima! Ha detto sì lo so Katnep era buono voleva solo proteggere la sua famiglia! Anche se non abbiamo più Katnep a proteggerci abbiamo comunque te vero? Sì ha detto sì se mi tieni il bambino sì vado a proteggervi però qualcuno deve tenermi il cucciolo! Forse vuole andare a vendicarsi contro il zio vediamo che cosa succede! Che ore sono le sue sceneri? Se le porta dietro! Così ti avrò con me e potrai guardarmi mentre faccio la nostra vendetta! Ok e Dog Day pensa che le ceneri di Katnep siano state rubate da qualcuno! Non ha capito che le ha prese la moglie! Vabbè è un po' rimbambito eh Dog Day oggi! Mi sembra peggio del solito! Intanto la nostra Miss Katnep si sta addentrando nella zona del zio ma c'è un sacco di gente armata! Mi sa che ha preso un esercito! Prima non ce l'aveva mica! Ok è pronta a tutto! E vuole far tutti fuori! Ok ha detto ciao ragazzi! Ha chiesto sostanzialmente se era il treno giusto! Se c'era posto sul treno! Poteva prenderlo con loro? Sì! E li ha anche fatti tutti fuori! Ok sta dicendo di non essere poi così peggio di Katnep e ha la sua altezza! Oh mio Dio! Li ha lanciati tutti fuori! E adesso questo treno dovrà partire! Forse andrà verso il zio e lei riuscirà ad arrivare a lui? Speriamo! Mi sono già entrati altri ma quanti ce ne sono? E' un'armata infinita come quella di Star Wars con le Strum Trooper che non finiscono mai! Sta orrigliando! Ok hanno appena detto che la prossima ad essere fatta fuori sarà lei! La stanno anche sottovalutando! Secondo me pensano che sia facile farla fuori! Molto più facile che di Katnep ma non hanno capito che in realtà lei è molto forte! Proprio come Katnep in realtà! Ok li ha lanciati fuori dal treno! Sicuramente li ha fatti fuori! Oh ma c'è una telecamera! Mi sa che non sarà un arrivo a sorpresa il suo! Questa è la fermata sbagliata! Non mi ha portato dal zio! Beh in effetti! E' arrivato lui da lei! Mi sa che l'ha vista nelle telecamere e quindi ho deciso di andare ad accoglierla come si deve! E' felice di aver avventura! Ma ora la tua avventura viene ad un'inizio! Adesso le tue avventure sono giunte a una fine! Sarò io a farti fuori! Quello è il laser che ha ucciso Katnep ragazzi! Deve stare molto attenta perché probabilmente perforerà anche lei! Ragazzi non dovete parlare adesso delle sceneri! Non è il momento! Siete in pericolo adesso! Dovete scappare! Loro pensavano che lei avesse portato via le sceneri di Katnep ma... Aspettate un momento ha detto! Lei vuole riportare in vita Katnep con le sue sceneri ricreando il pupazzo credo! Forse potrebbe farcela! Vediamo se riesce nel suo intento! Gli Smiling Critters sono tristissimi! Secondo me il potere delle loro lacrime è combinato alla potenza di questo macchinario! Potrebbe anche ricreare Katnep! Vediamo! Sono vivo! E' pronto a far fuori il zio! Vuole vendicarsi credo! Che cosa stai facendo? Voleva fingere di essere indistruttibile ma è stato distrutto e come? Insieme Katnep e Miss Katnep ce l'hanno fatta! L'amore mi ha ucciso mi ha anche riportato indietro! Praticamente lei ha detto è colpa mia se sei morto e lui ha detto sì è colpa tua sono morto per amore ma sono anche risorto per quello! Tutto è bene quel che finisce bene mi raccomando lasciate mi piace iscrivetevi al canale noi ci vedremo nel prossimo video ciao! Ciao!